Come state, ben ritrovati, un saluto a tutti, mi raccomando commentate numerosi, lasciate un bel like e iscrivetevi qui sul logo AL, grazie anche per gli auguri che mi state facendo, oggi 40 anni, allora non perdiamo però tempo perché restiamo sempre sul pezzo, mercato Milan, sono ore molto calde per quanto riguarda Brian Diaz, forse anche decisive perché ha atteso un incontro, magari c'è già stato quando vedete questo video se lo vedete più tardi, tra il papà di Brian Diaz che ne è anche l'agente e Massara e Maldini, un incontro in cui l'agente, il papà, dovrà dire se Brian vuole restare come è fatto sapere ultimamente oppure no. In caso di risposta affermativa, poi Milan e l'agente condivideranno una strategia per provare a convincere il Real Madrid, cercando di fare leva sulla volontà del giocatore di rimanere al Milan se oggi lo confermerà. Non è detto perché poi il richiamo del Real Madrid potrebbe essere importante per lui. Dall'altra parte il Real però lo valuta a 22 milioni di euro, potrebbe scendere magari a 20, cifra importante per un giocatore che fa bene ma forse non benissimo, fa 30 e non fa 31. 5 gol in campionato, 1 in Champions League, molto importante e l'operazione mi rendo conto che dividerà poi eventualmente il popolo rosso-nero. Sicuramente oggi Brahim è uno dei titolari del Milan, anche se l'ultimo periodo è parso un po' in flessione. Le alternative? Ouar, il Quinturage mi dice, non è ancora firmato con la Roma e c'è anche il Milan oltre che il Napoli. Ma non solo, c'è anche quel giovane italiano Baldanzi che nell'Empoli sta facendo molto bene la sua prima stagione in Serie A. Vediamo cosa succede oggi, un incontro molto importante, Milan precedenza però a Brian Diaz. Tutto il resto viene eventualmente dopo. Lo riscattereste a che cifra? Ditemelo qui sotto nei commenti. Mi raccomando lasciate un bel like e iscrivetevi qui, arriviamo presto a 12.000 iscritti anche su questo canale in cui parliamo di tutto con video flash. Un abbraccio a tutti, un saluto, buona giornata e a presto per altri aggiornamenti. Va bene? Grazie, grazie, grazie. Ciao!